Siamo stati costretti a rifare il CDA perché si sono dimessi, ma si sono dimessi per motivi familiari, per motivi personali, non certamente perché noi non abbiamo pretesa assolutamente nulla da nessuno, contavamo di poter continuare a lavorare così, però due, sia il Presidente sia l'altro componente si è dimesso, per cui siamo stati costretti a rinnovare il Consiglio di amministrazione nel più breve tempo possibile, del resto tutto è rimasto così come nelle funzioni è rimasto tutto simile al precedente, siamo un esempio di buona pratica amministrativa. Andiamo avanti, in parte c'è una continuità, ma c'è una continuità politica in una serie di ragionamenti che stiamo facendo perché noi ci ritroviamo qui, ci riuniamo e viene sempre fuori l'interesse generale, quindi la necessità di offrire servizi ai cittadini, alle fasce più deboli, abbiamo aperto tanti asili nido su tutti i territori dell'agro, l'assistenza specialistica nelle scuole, i centri polifunzionali per i bambini con abilità diverse, ma anche per i minori, per gli anziani, quindi è questo che alla fine conta, che stiamo stabilendo dei piani di rientro, purtroppo le situazioni economiche dei comuni sono difficili un po' ovunque, viviamo tutti un periodo di crisi economica generale, quindi purtroppo gli incassi dei comuni sono lenti e di contro anche i versamenti a tutti quelli che sono i fornitori di servizi. Abbiamo sempre vissuto momenti di tranquillità e di serenità da parte di tutti, l'obiettivo era quello di offrire un servizio particolarmente attento e credo che in questi tre anni e mezzo di attività questo piano di zona è riuscito a dare le risposte che i territori chiedevano. Quando un territorio ha la necessità vi è l'obbligo da parte degli amministratori di dare seguito e quindi risposta a queste necessità e ripeto io devo ringraziare di questo sia il precedente consiglio di amministrazione ma tutti gli operatori di questo piano di zone dell'azienda consortile agrosolidale che hanno lavorato e lavorano in un modo come dire professionalmente corretto ed eccellente.